Benvenuti su Zampa TV. Oggi parliamo di un argomento che potrebbe sorprendervi. Lavare i cani è davvero necessario? Il titolo del video di oggi è provocatorio. I cani non si lavano. Vediamo insieme perché alcuni esperti sostengono che lavare troppo spesso i nostri amici a quattro zampe potrebbe fare più male che bene. La pelle del cane ha un equilibrio di oli naturali che proteggono la pelle e il pelo. Lavaggi troppo frequenti possono rimuovere questi oli portando a secchezza, irritazioni e altri problemi cutanei. La pelle dei cani ha un pH diverso rispetto a quella umana, solitamente più neutro o leggermente alcalino. L'uso di shampoo umani può alterare questo equilibrio, causando problemi cutanei. Molti veterinari suggeriscono che i cani non dovrebbero essere lavati troppo spesso, in particolare se non presentano problemi specifici come infezioni o allergie. In generale, un lavaggio ogni 4-6 settimane potrebbe essere sufficiente per la maggior parte dei cani. Alcuni veterinari raccomandano anche di evitare bagni frequenti se il cane vive all'aperto e ha un mantello autosufficiente. Lavare troppo frequentemente può portare a irritazioni, desquamazione e prurito. L'eliminazione degli oli naturali può rendere la pelle più suscettibile a infezioni batteriche e fungine. In caso di malattie della pelle o infestazioni parassitarie, il veterinario potrebbe consigliare lavaggi più frequenti con prodotti specifici. Ad esempio, il dottor Scott J. Broussard sottolinea che lavare i cani troppo spesso può effettivamente danneggiare il loro mantello e la loro pelle, privandoli degli oli naturali necessari per mantenere una barriera protettiva contro infezioni e irritazioni. Inoltre, la dottoressa Linda Simon, veterinaria, consiglia che le razze a pelo corto, come i Doberman e i Boxer, potrebbero aver bisogno di un bagno solo poche volte all'anno, poiché il loro mantello non trattiene tanto lo sporco quanto quello delle razze a pelo lungo. Anche il dottor Soren McKnight, DVM, mette in guardia contro i bagni troppo frequenti che possono portare a problemi cutanei e alla rimozione eccessiva degli oli naturali che proteggono la pelle del cane. Ora risponderemo alle 10 domande più frequenti sul tema del lavaggio dei cani. Non dimenticate di controllare la descrizione del video, dove troverete i link ai migliori prodotti per la pulizia del vostro cane. Questi prodotti sono stati selezionati per aiutare a mantenere il vostro amico a quattro zampe pulito e sano senza compromettere l'equilibrio naturale della sua pelle e del suo mantello. Se avete altre domande o suggerimenti, lasciatele nei commenti. Quali sono i rischi del lavaggio frequente per la pelle e il mantello del cane? Lavare il cane troppo frequentemente può rimuovere gli oli naturali della sua pelle, essenziali per mantenere il mantello lucido e sano. Senza questi oli, la pelle del cane può diventare secca e pruriginosa, esponendolo a irritazioni e persino a infezioni. Ogni quanto tempo è necessario lavare un cane? La frequenza dei bagni dipende da diversi fattori, come la razza, il tipo di mantello e lo stile di vita del cane. I veterinari generalmente raccomandano di lavare il cane ogni quattro, sei settimane, ma alcune razze a pelo corto potrebbero richiedere meno bagni solo poche volte all'anno. Quali sono i segni che indicano che un cane ha bisogno di un bagno? Alcuni segni che il tuo cane potrebbe aver bisogno di un bagno includono un odore forte, pelle grassa o sporco visibile sul mantello. Tuttavia, è importante ricordare che questi segni non indicano necessariamente la necessità di un bagno frequente. Ci sono razze di cani che richiedono più o meno bagni rispetto ad altre? Assolutamente sì! Le razze a pelo lungo, come i Golden Retriever, possono richiedere più bagni rispetto alle razze a pelo corto come i Boxer. Tuttavia, alcune razze a pelo corto, sebbene meno bisognose di bagni, non dovrebbero essere trascurate del tutto. Quali alternative esistono al bagno completo per mantenere pulito il cane? Se il tuo cane non ha bisogno di un bagno completo, puoi optare per alternative come salviettine umidificate, shampoo a secco o semplicemente una buona spazzolatura regolare che aiuta a mantenere il mantello pulito e a distribuire gli oli naturali. È vero che i cani possono autopulirsi senza bisogno di bagni regolari? In parte sì! I cani hanno la capacità di autopulirsi grazie ai loro comportamenti naturali, come leccarsi e rotolarsi su superfici pulite. Tuttavia, questo non elimina completamente la necessità di un bagno occasionale, soprattutto quando si sporcano con qualcosa di particolarmente maleodorante. Quali prodotti dovrebbero essere evitati durante il lavaggio di un cane? È fondamentale utilizzare solo prodotti specifici per cani. Shampoo e prodotti per l'igiene umana possono alterare il pH della pelle del cane e causare irritazioni. Evita anche prodotti con forti fragranze, che possono essere fastidiose per il cane. Lavare un cane può avere effetti negativi sulla sua salute a lungo termine? Sì, lavaggi troppo frequenti possono portare a problemi cronici della pelle, come dermatiti, e compromissione della barriera protettiva naturale della pelle del cane. Questo potrebbe renderlo più suscettibile a infezioni e allergie. Cosa dicono i veterinari riguardo alla frequenza dei bagni per i cani? Molti veterinari raccomandano di non esagerare con i bagni. La frequenza ideale dipende dal cane, ma è meglio evitare bagni troppo frequenti per non danneggiare la pelle e il mantello. Quando è effettivamente necessario lavare un cane, ci sono situazioni in cui un bagno è indispensabile. Se il cane si è rotolato nel fango, ha un odore particolarmente sgradevole o se ha parassiti come pulci o zecche. In questi casi, un bagno è essenziale per mantenere il cane in buona salute. Non esiste una regola universale e la frequenza del bagno dovrebbe essere adattata alle esigenze specifiche del singolo cane, tenendo in considerazione la razza, il tipo di mantello, lo stile di vita e le condizioni di salute. Prima di prendere decisioni drastiche sulla routine di lavaggio del proprio cane, è consigliabile consultare il veterinario per ottenere consigli specifici. Quindi, lavare il cane sì, ma con moderazione. Ricordate che ogni cane è diverso e la frequenza dei bagni dovrebbe essere adattata alle sue esigenze specifiche. Se avete dubbi, consultate sempre il vostro veterinario di fiducia. Troverete tutti i link ai migliori prodotti per la pulizia del vostro cane nella descrizione qui sotto. Non dimenticate di dare un'occhiata e di scegliere i prodotti più adatti al vostro amico a quattro zampe. Grazie per averci seguito su Zampa TV. Se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al canale per non perdere altri contenuti utili sui nostri amici a quattro zampe. Ci vediamo presto!